Non passa nessuno con loro. No, infatti, finché non dicono almeno una cosa, ovviamente, come ben potete immaginare, è difficile fare dichiarazioni in queste ore, un po' di ottimismo è trapelato dal PD, abbiamo avuto la Serracchiani, poc'anzi anche dai 5 Stelle, ma insomma, che cosa sta succedendo? Che è in corso la votazione sulla piattaforma russo, 115 mila iscritti al Movimento 5 Stelle, iscritti a più di sei mesi, sono coloro che possono votare, e questo voto, per dirla con le parole di Di Maio, sarà decisivo all'abbraccio o meno di questo governo giallorosso, questo nascituro governo giallorosso, ci ha raggiunto anche il senatore Gregorio De Falco, buon pomeriggio, ben trovato a lei, allora, onorevole della vedova, iniziamo qualche ragionamento insieme, mi perdona poi se lo interrompo se abbiamo qualche ospite, qualche dichiarazione importante dall'esterno, appunto da Senato, Camera, Palazzo Chigi, ah tra l'altro dovrebbe essere inizia proprio in questi istanti, la riunione tra Conte e i capigruppo di PD e Movimento 5 Stelle, che cosa faranno? Mettranno un po' a punto questo programma, che a voi di più Europa della vedova non ha convinto perché avete deciso di votare no alla fiducia, aspetti, pronto Andrea Maggiore, Andrea chi ha i tuoi microfoni, vediamo? Eccoci Olivia, io ho il senatore Matteo Renzi, che naturalmente è uno dei grandi kickmaker di questo governo giallorosso, che sembra avere nelle ultime ore la strada abbastanza spianata, insomma lei ha un po' fatto da apripista a questo governo. Non esageriamo, io penso soltanto che quando Matteo Salvini ha scelto in modo incomprensibile di aprire una crisi d'estate, inspiegabile dal punto di vista dei contenuti, ma legata soltanto alla sua esigenza di chiedere i piani poteri, tutti gli italiani normali, per bene, assennati, si sono domandati che è successo. Anche quelli filo Salvini, voglio essere chiaro, che cosa è successo a Salvini? E ancora non ci siamo dati una risposta. Quello che è certo è che a quel punto eravamo di fronte a un bivio, o si faceva un governo con l'obiettivo di evitare l'aumento dell'IVA e di migliorare la situazione economica del Paese o si andava a votare dando ragione a Salvini e al suo diktat del papete. Siccome qui siamo di fronte al Senato e le istituzioni sono una cosa seria, il Parlamento ha detto no al papete e si va a votare quando lo dice la Costituzione, non quando lo dice Salvini. Senta, siccome le istituzioni sono una cosa seria, è altrettanto serio però il voto di oggi della piattaforma russo che dovrebbe benedire, si spera almeno per voi anche del PD questo governo che deve nascere. Lei che cosa si aspetta? È legittimo un voto della piattaforma russo? È un problema di 5 Stelle. Per quello che mi riguarda, quello che penso della piattaforma russo e del Movimento 5 Stelle è noto. Oggi c'è una priorità che è quella di fare un accordo di governo per salvare l'Italia dall'aumento dell'IVA e quindi c'è l'ipotesi di un governo che comprenda anche PD e 5 Stelle ma è una vicenda loro dalla quale sto ben lontano. Le istituzioni sono una cosa, la piattaforma russo è un'altra. Nel Toto Ministri si parla anche di suoi uomini o donne che potrebbero entrare ma perché lei non ci ha messo la faccia fino in fondo e non può andare a riclamare un passo da ministro magari? Perché questa operazione la faccio non per una esigenza. È anche più solido il governo così, no? La faccio per un'esigenza personale comprendo il fatto che non sono poltrone, sono ruoli di responsabilità che devono essere rispettati ma io nel momento in cui ho fatto questa battaglia che mi costa moltissimo dal punto di vista umano perché se c'è un partito con il quale ho discusso, litigato, mi sono contestato, anche accapigliato, è proprio il Movimento 5 Stelle quindi quanto di più lontano da me è il Movimento 5 Stelle e tuttavia la faccio perché penso che sia utile per il Paese che sia giusta per il Paese ma è più credibile se sto fuori perché se io lo facessi con l'obiettivo di avere poi un incarico io sarebbe immediatamente facile la contraerea allora ci sono tante persone di bravura Da fuori non è più facile staccare la spina poi? Qui si tratta di attaccarla la spina, prima di pensare a staccarla iniziamo ad attaccarla e a fare un governo che eviti l'aumento dell'IVA Grazie, arrivederci Ma Andrea una domanda al volo da studio, riusciamo a farla? Una domanda al volo? Senatore, sono Massimo Leonisi, buon pomeriggio Non è un po' benevola il suo giudizio sulla piattaforma Rousseau? Noi siamo organizzati come una democrazia rappresentativa, il percorso costituzionale Non è un po' benevola la sua interpretazione della piattaforma Rousseau visto che ci sono delle istituzioni rappresentative come il Parlamento Allora, se c'è uno che non troverete mai a difendere il Movimento 5 Stelle la piattaforma Rousseau ce l'avete qui davanti, è chiaro? Dopodiché, quello che deciderà di fare il Movimento 5 Stelle lo vedremo in Parlamento Come si forma questa decisione riguarda i singoli partiti Io ho una mia opinione sul modello di partito che hanno i 5 Stelle, che ha la Lega, che hanno le altre... Qual è la sua opinione? La sa, è inutile che non vi aggirlo oggi Oggi è in corso questa discussione interna del Movimento 5 Stelle Lo dicono, ce lo dica Ci avete ampia letteratura Se trovate uno che è stato più polemico di me con il Movimento 5 Stelle e viceversa, uno che è stato più oggetto di attacchi, talvolta di diffamazione, di fake news da parte del Movimento 5 Stelle, ditemelo Questo matrimonio può durare, viste le premesse Non è un matrimonio, qui si sta parlando... Interesse magari Io non so che tipo di matrimonio siete abituati a voi Io vi dico quello che penso io Noi stiamo andando contro un muro perché Salvini ha deciso di far aumentare l'IVA Salvini ha deciso di portare l'Italia fuori dall'Europa Salvini ha deciso di dire... Questo atteggiamento è follo Fa male all'Italia Siccome io non voglio far male all'Italia Dico a tutti quelli, ho detto a tutti quelli che ci stanno Fermiamoci Dico in studio però Un governo solo per non far aumentare l'IVA non regge E infatti il governo sta allargando con il documento programmatico del governo Conte che vedremo se otterrà la fiducia del Parlamento cioè delle istituzioni Sarà il Parlamento a dover decidere se questo governo merita la fiducia o no e quindi rispetto alla preoccupazione sul ruolo delle istituzioni lo vedremo Perché ancora in Italia contano le istituzioni non conta la spiaggia del papete È chiaro? In Italia ancora vale quello che si decide all'interno della carta costituzionale non del post di Salvini su Facebook Se noi non capiamo questo diamo vinta al populismo Ecco il punto fondamentale Secondo lei Salvini sta mangiando di pop corn Andrea Vi saluto Secondo me è più facile che abbia un po' di malox che non di pop corn Ciao Grazie Andrea Grazie senatore Renzi Bravo Andrea Peccato che non ci potesse sentire da studio però insomma a qualche punto ce lo riprendiamo perché giustamente Renzi diceva contano ancora le istituzioni pur tuttavia e vengo al senatore De Falco Questo qui è un problema di cui si dovrà riparlare dovremmo noi ma insomma chi fa le leggi occuparsi seriamente di una legge sui partiti sul metodo cosiddetto democratico di cui parla la Costituzione questa procedura diciamo di insediamento di formazione del governo è strettamente prevista dalla Costituzione nell'ambito di una democrazia parlamentare rappresentativa un istituto come la piattaforma Russo che introduce elementi di democrazia diretta in questa cosa è una cosa spuria forse anche contro l'Egem io questo poi ormai siamo abituati diciamo a strecciare diciamo il sistema perché poi fa comodo perché c'è un'esigenza di governo perché ci sono delle emergenze però facciamo attenzione le istituzioni una volta diciamo che si tendono fanno fatica a tornare a posto le urgenze magari poi vanno vengono quindi questa qui è una cosa di cui sicuramente bisognerà riparlare allora senatore De Falco lo interviene proprio su questo perché insomma di tutto quello che la democrazia diretta la piattaforma Russo comporta qualcosa facciamo un piccolissimo passaggio anche storico Russo non aveva questo tipo di approccio la sovranità appartiene al popolo per Russo ma perché si opponeva a quello del re assoluto all'epoca era questa nel frattempo abbiamo fatto delle esperienze la sovranità è qualche senso anche tragica la sovranità diciamo così assoluta quasi irresponsabile porta da una parte alle regi razziali e dall'altra a Piazzale Loreto la sovranità appartiene al popolo che la esercita nei limiti stabiliti dalla Costituzione questo dice l'articolo 1 della nostra Costituzione ed è sacrosanto perché? perché è vero che necessita un completamento della democrazia parlamentare rappresentativa ma questo completamento deve essere appunto eccezionale derogatorio e quindi eccezionale ora nello specifico io sono d'accordo perfettamente con quanto veniva adesso detto perché nello specifico la piattaforma Russo del Movimento 5 Stelle quale finalità ha? ha la finalità di creare le condizioni per consegnare un mandato a chi va a trattare ed un mandato si va di consultivo non decisorio cioè la piattaforma Russo decide è decisora soltanto nel caso di cui raggiunga la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto quindi 115.000 mi sembra che sia gli scritti la metà più uno di questi 115.000 allora in quel caso sarebbe ma altrimenti il capo politico vabbè l'hanno già raggiunta perché c'è stata un'ampia adesione De Falco a proposito della piattaforma finisco sulla piattaforma perché il ragionamento è questo qui non è che manchi poco tempo e quindi il problema sia quello è che viene collocata questa decisione questa consultazione viene collocata a valle come diceva di un procedimento istituzionale il che significa che nell'eventualità che dovesse vincere il no e quindi oppure che dovesse vincere il sì e comunque di contrastare il procedimento istituzionale sarebbe un dramma delle conseguenze abbastanza devastanti e probabilmente è anti quindi secondo lei lo sbaglio è stato fatto nel momento in cui la votazione è stata chiesta si deve fare prima prima del conferimento del preincarico fondamentalmente perché ora diciamo in effetti un no sarebbe poco conciliabile con lo svolgersi degli eventi poi c'è un prego della vedova poi volevo chiedere a De Falco se si è chiarito l'idea su che cosa fare c'è un punto c'è un punto di merito siamo in una fase istituzionalmente già ben definita col Presidente della Repubblica che ha dato un incarico poi c'è il tema di cos'è la piattaforma Rousseau è una piattaforma opaca che un'istituzione della Repubblica Italiana l'autorità garante per la privacy e la protezione dei dati ha detto che Rousseau non consente di garantire l'integrità l'autenticità e la segretezza dell'espressione di voto però hanno fatto dei lavori no no questo è l'ultimo questo è l'ultimo dopo questo è 4 maggio 4 aprile 2019 dopo le cose il garante della privacy ci dice che Rousseau non garantisce l'integrità l'autenticità e la segretezza del voto il PD doveva chiedere la discontinuità e invece sta concedendo tutto i 5 stelle sulla Rousseau bastava dire no facciamo un accordo e ce la vediamo tra i gruppi parlamentari perché ormai il capo dello Stato è intervenuto il tema che poneva Renzi quello se no Salvini noi che siamo stati anti salviniani ma anche anti 5 stelle per 14 mesi diciamo che messo così è un tema mal posto perché se tu devi costruire un argine devi farlo solido questo quello dei 26 punti che sono dei 5 stelle sostanzialmente compreso che a Roma va tutto bene bisogna renderla un pochino più attuale ma è per questo che lei non lo vota? i punti sono noi saremo all'opposizione per questo perché non è un governo all'altezza delle premesse questo rischia e io spero di no e noi voteremo tutti i provvedimenti nell'interesse dell'Italia e dell'Europa questo rischia di essere un argine fragile che alla fine non domani ma dopo domani riconsegnerà l'Italia a Salvini o chi ci sarà dopo Salvini in elezioni che non saranno come sarebbero state quelle immediate contro Salvini ma saranno elezioni a cui Salvini potrà andare contro un governo fragile che rischia di incagliarsi perché nel programma non c'è nulla di definito sul deficit sulla crescita economica sulla competitività allora vi faccio sentire ora vengo da De Falco che ricordiamo insomma brevemente la sua storia è stato senatore del Movimento 5 Stelle poi è espulso la cui espulsione credo che sia ancora sotto giudizio no 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 la mia espulsione si diceva e aveva a che fare con il decreto sicurezza 1 con il decreto sicurezza 1 e la fiducia che fu posta su quello che lei non ha deciso di non votare e vi faccio sentire pochi minuti fa poco tempo fa Di Maio sulla votazione della piattaforma Russo e poi riprendiamo col senatore De Falco è un momento di democrazia diretta per questo paese io sono orgoglioso del fatto che in Italia in questo momento la decisione di un governo democratico nell'ambito della democrazia rappresentativa sia deciso grazie ad un'espressione popolare di democrazia diretta Russo oggi consente a tutti gli iscritti al movimento di poter decidere senza intermediari nessuna forza politica oggi ha questo strumento ci abbiamo lavorato per tanti anni oggi sta funzionando molto bene abbiamo già battuto il record mondiale di votazioni online di una forza politica che ci sia mai stato e credo che oggi avremo un grande successo che è quello della democrazia e delle persone che decidono poi vedremo quale sarà il risultato ma abbiamo già vinto perché tutta Italia e consentitemi anche dal resto del mondo sanno tutti i cittadini sanno che questo governo si formerà grazie al voto di italiani che iscritti ad una forza politica possono decidere senza delegare Se far con così Di Maio gli italiani possono finalmente decidere senza delegare al di là dell'esito del voto grande soddisfazione per questo strumento di democrazia diretta Democrazia diretta ha a che fare con istituti di democrazia questo è uno strumento di un'associazione privata che conta 115.000 iscritti forse voteranno anche in buona parte di 115.000 ma non sono gli italiani sono gli iscritti ad un'associazione privata non è quindi un istituto di democrazia diretta ma è uno strumento interno di un'associazione privata che rischia di interferire come si diceva con le procedure istituzionali che sono delineate dalla Costituzione e dirette dal Presidente della Repubblica addirittura crea uno sgarbo per così dire se non è illegale crea uno sgarbo per lo meno istituzionale nei confronti dell'agenda del Presidente e rischia di interferire e rischia di mortificare i gruppi parlamentari del Movimento 5 Stelle Senta De Falco da queste posizioni molto critiche dopo il scontato che lei abbia deciso come comportarsi no che lei ora attualmente fa parte del gruppo commisto sappiamo che i numeri al Senato massimo di questo nascituro governo se Rousseau poi darà luce verde alle 19 termine la votazione sono piuttosto fragili e lo saranno ancora in questo governo giallo-rosso rosso-giallo e dir si voglia quindi insomma stiamo anche valutando le posizioni appunto dei senatori incerti al Senato abbiamo costituito una componente all'interno del gruppo misto che si chiama Politeia.eu molto piccola ovviamente della quale per la verità la Presidente del Senato non ha ancora inteso prendere atto costituita da me dalla senatrice Nunes e dal senatore De Bonis allora questa piccolissima componente in realtà non ha preso una decisione se non per riguardo a queste metodologie appunto eccentriche queste consultazioni sono particolari perché noi vorremmo capire come anche si diceva da parte della vedua cos'è il contenuto perché è vero ci sono i 26 punti ma sono punti non discutibili chi è che non vorrebbe Roma la più bella città del mondo chi è che non vorrebbe mi sembra ritornare agli anni 80 quando c'era quella trasmissione interessantissima simpatica però erano la parissiana alcune domande allora come si realizzano queste cose dove si prendono queste risorse a chi si sottraggono perché ovviamente da qualche parte allora noi che cosa chiediamo a questo governo una dimostrazione di serietà di serietà discontinuità e serietà ciò significa che per esempio per quanto riguarda l'immigrazione oppure per quanto riguarda per quanto riguarda l'immigrazione beh attualmente il ministro Torinelli e il ministro Trenta beh devono prendere un impegno a non firmarne più di quegli decreti interdittivi possono farlo da stasera da subito una dichiarazione potevano farlo anche l'altro ieri sono perfettamente e avrebbero fatto bene il ministro avrebbe potuto chiedergli nel nome della discontinuità esatto di farlo questo è un gesto concreto perlomeno la enunciazione di questo gesto De Farco siccome questo è il programma che ad ora è stato reso noto ok un programma abbastanza sommario non dico per titoli ma insomma una visione di insieme voi su questa base che è quello che abbiamo come e con quali risorse quindi comunque questa base a voi non convince non è non è taustiva non è che non convince è solo da specificare con serietà perché il problema molto più dire che è un discorso di investitori qui ci sono miliardi miliardi di spesa bisogna capire da dove si vanno a prendere posso fare una domanda dal senato prego e poi vengo da lei della vedova che cosa si aspettava di trovare e cosa non ha trovato nel movimento ah nel movimento mi aspettavo di trovare un rapporto differente tra diciamo così il gruppo dirigente eccetera con i propri parlamentari io mi aspettavo che ci fosse la possibilità di discuterle le questioni prima di prendere una posizione dopodiché mi aspettavo anche che a nostra volta potessimo sulla base discutere con i territori invece le decisioni chi le ha prese in questi mesi di governo chi le ha prese di maio apparentemente di maio però io poi non lo so dietro chi ci sia beh però un'idea se la guardi l'associazione Movimento 5 Stelle di oggi nata nel novembre del 17 è in realtà quella che è costituita da due soggetti soltanto che non avevano alcuna carica nella precedente associazione e sono Luigi Di Maio e Davide Casaleggio questa circostanza cioè che ci sia che sia composta da due soggetti è uscito fuori adesso a marzo aprile a Genova in un progetto dall'interno lei è deluso dal fatto che l'anima del Movimento sia diversa da quella che si aspettava oppure dal fatto che il Movimento tutto sommato ha constatato che non ha un'anima e intendo per anima probabilmente linea politica come si è visto anche dai sondaggi nel momento in cui il Movimento ha cessato di seguire pedissequamente le politiche salviniane ha riconquistato una parte ancora modesta ovviamente del proprio elettorato aveva perso 6 milioni di voti adesso quindi che cosa significa che l'elettorato aveva un riferimento ed è senz'altro più a sinistra di quanto non fosse la politica attuata con Salvini la parte centrale diciamo così è migliore del Movimento è la componente ambientalista e poi la componente che riguarderebbe i diritti sociali tant'è vero che il reddito di cittadinanza è l'emblema la battaglia bandiera quindi questa parte però potrebbe venire valorizzata e attuata molto meglio il partito democratico fatemi sentire la vedova che comunque rimane con noi anche nella prossima mezz'ora quindi avremo tempo ampiamente di ascoltarlo ma guardi il senatore De Falco ha votato contro la fiducia i decreti sicurezza e quindi diciamo è una voce che io giudico eccellente ma che non è la voce non è stata la voce del Movimento 5 Stelle tant'è che l'hanno gacciato ha dovuto andarsene perché Di Maio sulla politica sull'immigrazione e contro gli immigrati non per gestire l'immigrazione la politica contro gli immigrati l'ha fatta con Salvini esattamente come Toninelli un po' meno la 30 i taxi del mare la caccia all'ONG è stata una scelta di Di Maio la cosa che a me stupisce però anche nel programma di oggi è che il PD abbia accettato a scatola chiusa qui si dice che bisogna evitare l'aumento dell'IVA poi sostenere le famiglie disabili va tutto bene Zingaretti ci aveva detto che avrebbe preteso prima di dare il via al governo di vedere le carte sulla finanziaria domani se non ho capito male o dopo domani Conte va al Quirinale presenta la lista dei ministri ci sarà il governo e nessuno sa come verrà affrontata la finanziaria e come verrà impedita l'IVA io noi faremo un'opposizione costruttiva sperando di poter cambiare idea al più presto su questo governo ma oggi non è serio Renzi dice il governo per evitare l'aumento dell'IVA ok come? mancano dieci giorni siamo già a settembre quindi chi ha davvero a cuore l'alternativa Salvini sa che prima o poi si voterà si voterà nelle regioni e si voterà poi per le elezioni politiche non so se questo governo durerà temo che non durerà abbastanza e quindi bisogna dare risposte non basta dire tu stai fuori e quindi su queste cose doveva già esserci nero su bianco quale fosse il percorso sul taglio dei parlamentari il PD ha accettato che prima si fa il taglio dei parlamentari così di mai avrà lo scalpo antiparlamentarista delle 300 quante sono poltrone tagliate e pochi risparmi e poi si avvia un processo bastava dire ok fatti chiari amicizia lunga si fa il taglio dei parlamentari con un nuovo provvedimento una cosa ancora della vedova poi lo devo salutare ma c'è il correre rischio invece di un governo salviniano per voi non era troppo azzardato e poi c'è qualcuno che si può stupire del fatto che più Europa non voglia appoggiare un governo baciato dall'Europa in qualche modo la notizia è di uno spread che sta a 160 punti mai chiaramente così basso più che un governo baciato dall'Europa perché io sono europeista e quindi non ho sensi di inferiorità o complessi di inferiorità mi interessa un governo europeista che Conte e Di Maio che hanno guidato il governo meno europeista della storia repubblicana italiana guideranno come azionista di maggioranza e stesso primo ministro un governo europeista è da dimostrare saremo i primi a riconoscerlo ma non a scatola chiusa nell'interesse loro e nell'interesse di un governo che per essere argine solido e diratturo a Salvini avrebbe dovuto partire meglio De Falco devo chiudere se voglio dire qualcosa in 5 secondi me la devi dire perché sono già fuori semplicemente questo e l'ha già detto in parte anche della vedova su alcune cose siamo sulla stessa lunghezza donne in realtà quello che serve è serietà non occorre che ci facciano i calcoli ragionieristici ovviamente però qualcosina però qualcosa ci deve essere allora in quel momento valuteremo che cosa fare e allora ce lo tornerà a dire nelle prossime ore perché insomma credo che di novità ne avremo grazie veramente ai miei ospiti grazie a Benedetto della Vedova grazie a Gregorio De Falco grazie al nostro Massimo Leoni con tutti voi ci vediamo tra pochi minuti grazie a tutti grazie a tutti